Preoccupazione per gli attacchi del Premier al G8 e il rispettoso silenzio per il momento elettorale. In margine al Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, il Presidente Luca Palamara non nasconde il disagio delle toghe. Penso che questi siano giorni particolari, ma non vogliamo essere strumentalizzati. C'è sconcerto per quello che è accaduto all'estero davanti ai leader mondiali. Gettare discredito fa male ai magistrati, ai cittadini, al Paese. Il Segretario dell'Associazione Magistrati, Giuseppe Cascini, precisa Siamo molto preoccupati per queste continue aggressioni alla magistratura italiana. Ci limitiamo a segnalare la gravità di questi interventi quotidiani, ma in questi giorni c'è una tornata di voto amministrativo e ci atteniamo a un costume di riservo che abbiamo mantenuto durante tutta la campagna elettorale. Quanto ai rapporti con gli Stati Uniti dopo lo sfogo del Premier con Barack Obama, il PM Cascini ricorda Sono anni che le procure italiane collaborano con le autorità statunitensi come la DEA, la FBI e l'alta professionalità, la serietà e l'indipendenza dei magistrati italiani sono ben conosciute negli Stati Uniti.